Questo è il nostro riso viauenano, coltivazione per eccellenza del mantovano, l'unico vero riso mantovano come varietà. Diventa risola pilota nel nostro ristorante che è il piatto più tipico della zona sinistra a Mincio e attualmente è in conversione biologica come tutta l'azienda, una parte già biologica, dall'anno prossimo andremo a continuare questo percorso e quindi sarà uno dei pochi risi mantovani a vantare questa certificazione. Noi abbiamo affiancato il discorso agricolo alla ristorazione, abbiamo aperto nel 68 come ristorante e dall'80 come azienda agricola puntando direttamente sulla filiera del riso, oggi completata con tantissime altre coltivazioni come il recupero varietale dei grani antichi e anche dei mais antichi, il discorso di allevamento e macellazione suini bovini, la canapa, l'orzo per le nostre birre, a breve si concluderà anche il ciclo del lupolo e ogni anno sviluppiamo un progetto sempre di più trovando nuove filiere, chiudendole noi e collaborando direttamente sul territorio con aziende che vadano appunto a trasformare quello che è il nostro prodotto, ovviamente rispettando l'idea di biodedicato.